Vado 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 amico io oggi sono andato a trovare la parte sportiva del web marketing eccetera perché siamo con una persona che fa sport sempre ovviamente non ha il fisico come il mio ma comunque dici dici ospite chi sei dici ciao a tutti ragazzi non so chi mi conosce secondo me la maggior parte di voi se non tutti non mi conoscono quindi mi presento mi chiamo danilo danilo vacalluzzo sono in comunità come diceva salvo da tre mesi e mi occupo appunto di seo mi occupo di seo da ormai più di dieci anni ho cominciato credo nel 2008 quindi a dodicina d'anni e lavoro a malta mi sono trasferito praticamente qui circa tre anni fa più di due anni e mezzo fa lavoro nel settore del gambling quindi parleremo un sacco e si è scoperchiato il vaso di pandora esatto quindi seo gambling la morte è assoluta praticamente esatto e attualmente lavoro a hero gaming praticamente un operatore vi spiegherò magari più tardi il mio ruolo è head of seo vale a dire testa di seo in italiano sarebbe praticamente il dirigente della del team e seo di hero gaming in poche parole ti vedo di nuovo frizzare di quale stato salvo percorso di come sei arrivato non ci sono no adesso si scusami ecco adesso sì adesso sì però però durante l'intervista la magia faccio la magia c'è c'è il problema però qui se vuoi tu parla dai allora io racconto vi racconta appunto come è cominciato tutto ci pensavo tra l'altro oggi visto che salvo mi ha presentato come lo sportivo del web marketing ero appunto stavo correndo circa un'oretta fa mi dicevo che cavolo gli racconta salvo durante l'interview e allora ho pensato appunto a come tutto è nato quindi mi devi chiamare marco perché salvo mi chiamavo una scuola salvo sì hai ragione allora da come tutto è nato quindi da come mi sono avvicinato a questo mondo e secondo me è tutto partito nel 2000 veramente tutto partito nel 2010 praticamente io ho un passato più da informatico quindi ho studiato computer science all'università alla triennale in sicilia mi sono poi trasferito a bologna per fare la magistrale quindi informatica applicata e da lì ho fatto pure un master in islanda a reykjavik e vedi dove sei arrivato a parlare con me che rappresento l'ignorante di ogni giorno e quindi insomma sono stato lì a fare un master in natural language processing dice che cazzo è sta parolone intelligenza artificiale era l'inizio sì anche faceva parte appunto dell'intelligenza artificiale però era più come l'interazione tra la macchina tra gli algoritmi tra codice e linguaggio naturale quindi il modo in cui un calcolatore una macchina un algoritmo riesce ad interpretare a capire il testo a capire proprio contenuti a capire il linguaggio quindi tu in questo periodo ci sguazzi praticamente ma tu pensa che sta cosa l'avevo studiata appunto nel 2009 2010 sì era fantascienza secondo me all'epoca era una cosa che ma una cosa assurda che mi ha flashato in una maniera incredibile e da lì ho cominciato ad appassionarmi un sacco di motore di ricerca di algoritmi perché veramente ragazzi è un casino è un mondo là dietro ma tu a questo punto quando è uscito Bert esatto quando è uscito Bert questo è uscito sei anni fa ma ti giuro pensavo a Bert proprio oggi mentre correo perché il lato del language processing non è altro che appunto come dicevo prima capire quello che è un linguaggio un testo, un contenuto ora in maniera molto semplice vuole rappresentare e vuole dire e uno degli esami ecco di questo master era creare un question answering quindi una sorta di algoritmo a cui tu facevi delle domande lui faceva uno scraping su Google e ti estrapolava la risposta bellissimo e tutto il giochino era praticamente nell'analisi logica cioè questi algoritmi erano capaci di effettuare un'analisi logica del testo e tu poi riuscivi a manipolare questa analisi logica e ti procuravi la risposta andandotela a cacciare insomma a tirare fuori dal testo era una cosa super affascinante da lì appunto è cominciata un po' la passione facevo già SEO prima perché come ti dicevo ho cominciato secondo me il 2008 facevo l'università mi dovevo pagare gli studi e gli affitti sviluppavo già codice quindi facevo siti web facevo dei softwareini per qualche cliente quindi tu sviluppavi anche in PHP? sviluppavo PHP ho sviluppato in Java ho sviluppato in CIO ho sviluppato in Python ho sviluppato in qualsiasi cosa possibile e immaginabile e mi chiedevano appunto sì vabbè il sito però io voglio apparire su Google sai nel 2008 che cazzo vuol dire voglio apparire su Google? certo e da lì ho cominciato un po' a informarmi come funzionava come all'epoca figurati era completamente un'altra storia bastava mettere il metatag keywords fare due cazzate si riusciva a posizionarsi però insomma da lì pian piano studiando leggendo informandomi ho cominciato un po' ad entrare nel mondo della SEO fino al sì poi il 2010 ho lavorato in una web agency quindi a Bologna dove facevo sia lo sviluppatore sia progetti SEO e nel 2012 internal link all'intervista di Flavio Mazzanti il 2012 mi pare sì ho conosciuto Flavio perché volevo ancora di più approfondire e studiare il mondo della SEO e ho deciso di fare il Master SEO di Adriano di Arcangelis Flavio era la Tana delle Tigri era la Tana delle Tigri esatto e da lì sì ho cominciato a fare questo Master SEO che è stato comunque bellissimo un'esperienza fantastica perché ho conosciuto Flavio ho conosciuto Adriano Andrea Podo insomma tutti i vari personaggi della SEO e da lì Flavio appunto mi disse ma senti tu io all'epoca mi ricordo volevo abbandonare il lavoro che avevo il lavoro a tempo indeterminato mi stava un po' stretto perché comunque volevo fare più esperienza avevo un sacco di idee per la testa volevo fare veramente ed è quello che facevi in agenzia era quello che facevo prima in agenzia a un certo punto mi licenzio comincio a fare il freelancer perché comunque avevo un sito web Danilo Vacherluzio che era straposizionato per tutti le chiavi di ricerca realizzazione siti web a Bologna realizzazione app software ma veramente avevo una marea di lavoro da fare quindi ho detto vabbè mi licenzio faccio quello che voglio comincio a lavorare da freelancer passano due mesi Flavio Mazzanti mi chiama e mi rompe le palle ma sai ma perché non facciamo di là perché non ci uniamo perché blablabla a me l'idea era piaciuta un sacco lui mi stava simpaticissimo era stato veramente al massimo siamo conosciuti insomma così ecco là bom uniamo le forze e creiamo Escogito Web mettendo a fianco le due partite IVA giusto? all'inizio abbiamo messo a fianco le due partite IVA dopo cinque mesi forse non ci rientrano più con regime dei minimi mi ricordo sì quattro mesi una roba del genere abbiamo creato proprio una società vera e propria una SNC una roba del genere mi ricordo io Flavio c'era pure la Cate che è la ragazza di Flavio lei si occupava della parte più amministrativa legale eccetera eccetera Flavio gestiva più i progetti SEO diciamo era un po' più la parte commerciale io ero un po' più la parte tecnica ma in due facevamo un mare di lavoro perché ci arrivavano un sacco di richieste dovete essere del puzzle praticamente sì praticamente sì dopo neanche sei mesi forse dalla nascita di Escogito un altro rompicoglioni di Jacopo Matteuzzi entra in campo e insomma con Flavio Flavio propone anzi a Jacopo di prendere in gestione tutta la parte operazionale quindi tutta la parte di gestione di clienti di Studio Samo eccetera eccetera quindi un'altra fusione con Studio Samo è un'esperienza fantastica perché considera che veramente nell'arco di uno o due anni siamo ritrovati ad avere un team di 15 persone con cui lavoravamo un sacco di progetti dai progettini piccolissimi siamo passati a gestire clienti molto grossi ma cioè com'è lavorare con delle persone che si drogano ogni giorno? è dura è dura dalla mattina alla sera e ti fanno poi entrare nel circolo dei tossici no è stato poi tutti i corsi di formazione abbiamo cominciato da zero a sé o stavamo in giro per l'Italia praticamente tutti i fine settimana da una parte chiaramente era abbastanza stancante come puoi immaginare perché comunque di settimana lavoravamo il sabato o il venerdì sera partivamo da Bergamo a Palermo andavamo in giro veramente per l'Italia a fare i corsi di formazione in più da zero a sé o in più la gestione della pagina Facebook in più c'erano tutti i progetti che arrivavano quindi era era una bella una bella botta di fatica sì perché facevate pure il tour c'era da zero a sé facciamo il tour e il tour è questo qua ti dicevo nel fine settimana che andavamo in giro poi c'era l'evento vero e proprio da zero a sé che comunque anche quello ti prendeva un sacco di tempo però sì un'esperienza fantastica abbiamo conosciuto un mare di gente abbiamo formato non so veramente quante migliaia di persone che è stata in giro è stata una galoppata fantastica Adini ricordo ancora quando venne detta su Facebook questa cosa che tu praticamente in qualche modo mollavi tutto quello che era il tuo sodalizio con Studio Samo eccetera eccetera per un'esperienza totalmente nuova cioè eri da un'altra parte questa è la storia della mia vita nel senso per fortuna o per sfortuna secondo me dettato dal fatto che io sono stato un atleta professionista fino a non moltissimi anni fa io ho bisogno di nuovi stimoli di challenge continui non che mi che mi mi era stretta anzi tutt'altro semplicemente forse mi era stretta a Bologna sentivo ormai vivevo lì da quasi dieci anni avevo proprio voglia di cambiare sì ma più che altro perché mi è arrivata la proposta da questa azienda di Malta perché non ci pensavo cioè non era la mia idea quella di lasciare tutto quella di andare ma figurati però raccontavo come ti ha trovato l'azienda? LinkedIn mi ricordo che però assurdo era i primi di settembre ero in Sicilia al mare con mio padre lui era accanto a me perché tu sei siciliano comunque io sono siciliano 100% era accanto a lui e gli dicevo papà ma sai ho proprio voglia di fare un'esperienza all'estero di nuovo perché ero stato in Islanda comunque alla fine lasciare la Sicilia andare a Bologna ho sempre viaggiato mi sono sempre spostato non sono mai rimasto fermo troppo volevo fare un'esperienza all'estero però sai comunque qua c'ho un mare di cose da fare però sai mi piacerebbe passano tre settimane mattigi urmana cosa assurda e mi contatta questa agenzia questa azienda aziendona di Malta all'epoca all'epoca non conoscevo assolutamente quel mondo quel mondo lì non avevo idea di chi catena fosse praticamente mi arrivò questo messaggio sul link il solito messaggio di spam ma no non era si capiva che era autentico praticamente mi hanno subito messo il link alla posizione che stavano cercando mi hanno detto subito il tipo di inquadramento come si dice inquadramento lavorativo contratto contratto esatto e subito proprio nel messaggio iniziale c'era lo stipendio che io avrei preso come qua in Italia come in Italia uguale vedi ne parliamo dopo il primo mese ci ragioniamo no no cioè nel senso loro mi hanno contattato perché mi volevano evidentemente perché hanno visto comunque il mio profilo hanno visto quello che avevo fatto c'erano già informati su di me non li ho dovuto raccontare molto perché avevano c'è il team HR risorse umane e loro hanno all'interno del team un altro mini team sono i recruiter e loro vanno a cercare talent scouting si chiama quindi vanno a cercare talenti in giro per il mondo e da questo possiamo dedurre che è bene tenere una pagina LinkedIn abbastanza aggiornata guarda io la 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 sì assolutamente la ma perché le aziende grosse ma magari anche le aziende piccole chi ti vuole assumere ti cerca su LinkedIn ad oggi soprattutto noi insomma che lavoriamo nel mondo il digital marketing finalmente possiamo dire a tutti usciti da sto cazzo di Facebook andate su LinkedIn se volete fare qualcosa di più no guarda su LinkedIn ti dirò anche quest'altra agenzia mi ha trovato su LinkedIn perché poi ti racconterò il fatto che comunque adesso non lavoro più nell'azienda che mi ha contattato prima lavoro in un'altra e ti dirò che in questi due anni e mezzo non so quante persone mi abbiano contattato su LinkedIn io LinkedIn la prima cosa che succede è boh ma da fare l'update su LinkedIn lo tengo sempre aggiornato tengo la versione italiana e inglese sì secondo me almeno per quello che faccio io per il lavoro che faccio è super importante noi ci siamo organizzati anche per l'intervista su LinkedIn sei il primo perché tutti su Facebook per questo ho accettato scherzo per aggiornare il mio profilo e quindi mi arriva sta mail bellissima ho detto sarà una cagata sarà scherzi a parte perché veramente era surreale surreale nel senso uno stipendio da chirurgo cardiovascolare del Policlinico di Milano un lavoro fantastico perché comunque il lavoro che mi proponevano era SEO Strategies all'inizio per il mercato italiano racconto un po' cos'è Catena Media Catena Media è l'azienda che mi ha contattato Catena Media è l'azienda al momento più grande al mondo al mondo quindi non a Malta non in Italia non a Caro Pepe di Sicilia ma al mondo di affiliazioni su Gambling Betting e Trading quindi tre diciamo mostri in cui non è facile competere quindi insomma mi hanno contattato mi hanno scritto questo messaggio bellissimo scritto bene mi hanno mandato un video di come era la vita a Catena Media quindi vedevo che intanto l'età media era 25 anni una roba del genere di tutti i dipendenti c'erano 400 ragazzi c'erano 6 uffici in tutto il mondo avevamo Giappone Serbia Malta Inghilterra e America sì c'erano 28 nazionalità diverse di ragazzi solo a Malta ho detto cazzo vado a fare l'Erasmus e mi pagano per fare l'Erasmus praticamente il paese dei Balocchi il paese dei Balocchi ho detto la madonna ma che cazzo ma veramente ho detto ma che devo fare che devo fare comincio a parlare con mio padre pure lui mi ha detto tre settimane fa secondo me è una cosa che dovresti pensare a cui dovresti pensare ne parlo con Flavio insomma insieme ne discutiamo lui sinceramente era contentissimo per me chiaramente dispiaciuto come lo ero io per tutta la situazione per dover lasciare eccetera eccetera decido di comunque proseguire perché loro chiaramente mi hanno cercato ma c'erano tutta una serie di step da fare quindi interviste colloqui eccetera eccetera approccio il primo colloquio con l'Echar per capire se siano psicopatico se siano una persona normale o no è andata bene faccio il secondo colloquio con l'Echar più all'epoca c'era Head of SEO che mi ha fatto un'intervista un po' più tecnica mi mandano una specie di test da fare che era una presentazione su uno dei prodotti che avevano che gestivano presentazione cioè tu dovevi presentare il prodotto loro? allora praticamente io dovevo essere responsabile del mercato italiano quindi loro mi hanno mandato un loro prodotto italiano e mi hanno detto preparaci una presentazione da consegnare in una settimana di tempo con una specie di strategia cosa faresti cosa non faresti per questo prodotto ok per presentazione tu intendi che cosa? una powerpoint una presentazione come si dice? presentazione sì sì va bene un powerpoint presentazione pensavo più a un presente al prodotto eccetera no 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 powerpoint si parla sempre di strategia di strategia quindi cosa avresti fatto tu per quel prodotto cosa faresti tu per questo prodotto chiaramente una cosa che mi era piaciuta un sacco a parte come era strutturato era fighissimo perché dicevano me la ricordo ancora perché poi l'ho riutilizzata io per assumere SEO nel nostro dipartimento era divisa in tre parti cioè la prima parte era un'analisi SWOT quindi punti di forza punti di debolezza eccetera eccetera l'altra era l'analisi ora non mi ricordo bene l'analisi cosa faresti come informeresti il tuo team come ti coordineresti col tuo team e l'altra era quali sono le KPI quindi quali sono i risultati che tu vuoi raggiungere come pensi raggiungerli come eccetera eccetera quindi presento preparo tutta sta presentazione la presento con le slides a catena media loro sono rimasti contentissimi e prima ancora di mandarmi il contratto mi invitano a Malta ma tu già avevi esperienza nel coordinare le persone beh sì considera che a Escogito comunque avevamo tanti dipendenti quindi avevo il team io a Escogito mi occupavo all'inizio della parte SEO poi mi sono un po' spostato più sulla parte tecnica perché comunque avevamo in gestione quando arrivava un cliente grosso gestivamo anche la parte tecnica quindi se avevo un server gestivamo tutta la parte server gestivamo la parte web a volte dovevamo creare degli e-commerce da zero quindi avevo tutto il team con cui creavamo e-commerce lo gestivamo eccetera una cazzo di mente sei avevamo pure creato un software per la gestione delle keyword mi ero inventato una roba pazzesca una specie di aggiramento delle dinamiche di Google per cui riuscivamo a fare scraping su Google cambiavamo IP dinamicamente non appena Google capiva che stavamo facendo troppe richieste se no ti bloccava subito se no ti bloccava avevamo circa un centinaio di macchine che facevano tutte queste richieste scarichavano le keyword e aggiornavano ogni giorno le keyword si poteva pure geolocalizzare quindi tu volevi settare voglio vedere queste keyword nella provincia di Palermo addirittura nella città e funzionava quindi avevo sì avevo un team quando sono entrato a catena non avevo però un team io ero responsabile del mercato italiano ma all'epoca non avevo team sì un po' di due anni e mezzo fa mi invitano quindi a Malta perché mi hanno detto a noi piaci devi capire se tu se noi piaciamo a te ho detto ok quindi insomma vado là una roba fantascientifica perché comunque c'era sto palazzo di sei piani immagino che sei andato la spesa di loro sì no chiaro mi hanno mandato il biglietto mi hanno mandato nel loro appartamento con la suite insomma no 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 una roba una roba fantastica io di giù dicevo boh ma secondo me mi stanno prendo per il culo cioè ci sarà tu sarai oh mazzanti mi sta paraculando non è che hanno capito male cioè ma veramente e niente arrivo là tutti super super carichi super entusiasti tutti super gentili e mi hanno spiegato qui c'è questo team il team funziona così questi sono i nostri prodotti ma c'era la sala playstation la sala ping pong c'è la mensa con tre chef c'era c'era detto ma oh cioè ma che cazzo vengo ma boh ditemi dove devo firmare e firmo e i rifetti li avevano già il contratto quindi ho firmato il contratto due mesi due mesetti di 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 not spirit come si dice di preavviso e quindi lasciai escogito mi hanno aiutato loro con il trasloco quindi a spese loro ho fatto tutto il trasloco per andare a Malta e da lì ho cominciato quindi io ero responsabile del mercato italiano il mercato italiano uno dei più grossi avevamo cinque siti più grossi di tutto il mercato italiano quindi uno due tre quattro cinque in serpe quindi la serpe era nostra praticamente e da lì io ho detto cazzo ma io tutto ciò che facevo sulla SEO qua non funziona cioè nel senso qua è un altro mondo ho cominciato a capire che e a no a capire ma più che altro a rendermi conto di 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 come le regole del motore di ricerca siano dettate dal mercato siano dettate da dal caro dall'industria dal come cazzo allora si dice in italiano dal settore in cui lavori ma perché veramente cioè nel senso tutto super esagerato nel senso che veramente devi la competizione è talmente alta che il minimo dettaglio fa la differenza e quindi da lì c'è link building paurosa chiaramente ma tutta la parte di home page AB testing avevamo tutta la parte di sistemisti di sviluppatori che sviluppavano in una maniera incredibile minuziosamente il codice codice pulito siti web super veloci cdn server ma una cosa pazzesca quindi lì mi sono reso conto di sì di come il settore fosse super competitivo e di come appunto come un atleta che va alle olimpiadi devi andare a perfezionare la singola cosa se vuoi essere se vuoi rimanere hai visto una realtà totalmente differente da quella che vivevi ma sì nel senso se io avessi applicato lavorativamente parlando non l'ambiente eccetera anche lavorativamente parlando ma adesso non è che abbia avuto chissà che di esperienze in Italia dal punto di vista lavorativo in altre aziende però a Malta a Catena Media facevamo ogni due settimane colloqui con l'HR perché loro ti chiedevano come sta andando come è il tuo manager come ti trovi con il tuo manager come ti trovi con il team cosa vuoi cambiare se potessi decidere cosa cambiare cosa cambieresti come ci puoi aiutare per migliorare l'azienda ogni due settimane loro si ispiravano a un framework o qualcosa del genere ma guarda tu considera il team HR a Catena era di dieci persone sì di cui tre facevano solo questo di lavoro cioè loro erano lì otto ore al giorno a capire come possiamo migliorare le relazioni tra i dipendenti incredibile poi il responsabile del risorso umano si occupa solo di prendere di vedere chi può lavorare in un'azienda e poi non lo vedi più per tutta la tua vita lavorativa è vero invece la presenza dell'HR a Catena e anche in questa azienda in cui lavora adesso è fondamentale ed è di grande supporto per il dipendente perché comunque ti va a risolvere tutta una serie di problematiche se c'è un rapporto che si incline un attimo con un manager con un tuo pari loro riescono a risolvere loro ti aiutano loro si occupano di tutte queste parti qui quindi in più facciamo anche le bi-weekly con i meeting settimanali e bisettimanali con i manager quindi tu vai là lui non dice una parola quindi sei tu che racconti come ti trovi gli puoi dire se è un testa di cazzo non mi è piaciuto cosa hai fatto questo qua e insieme va veramente come leggi magari nelle storie di come si farebbe veramente a lavorare insieme quindi io mi sono trovato benissimo quindi il tuo primo progetto che hai gestito là praticamente io sono entrato a novembre loro avevano acquisito da un'altra azienda questi cinque siti italiani perché Catena è nata con un portfoglio di prodotti abbastanza ridotto soprattutto nei paesi scandinavi quindi Svezia Finlandia Norvegia dove lì il gambling è molto molto forte e hanno però cominciato ad allargarsi quindi una delle scelte di marketing di Catena di tre anni fa era quella di fare acquisizioni abbiamo comprato questo portfoglio italiano hanno speso 15 milioni di euro per comprare questi cinque siti la più piccola acquisizione di Catena Media caspita esatto e quelli erano siti che dico in maniera spicciola così facevano sì che le persone potevano iscriversi a un casino praticamente sono cinque siti di affiliazione erano un po' diciamo gemelli nel senso molto simili tra di loro tre erano abbastanza diversi perché uno era molto focalizzato sui giochi uno era molto focalizzato sui bonus e uno era molto focalizzato sulle promozioni offerte e nuovi casino il discorso affiliazione come funziona tu hai all'interno del sito la classica si chiama top list vale a dire la lista di tutti i vari casinò hai quindi tutte le varie review perché chiaramente ti vuoi andare a posizionare per i termini relativi ai casinò considera che in Italia c'erano quando ho cominciato più di 200 casinò online adesso con le varie regolamentazioni eccetera ce ne sono molti meno e in più ci sono tutti i giochi che i casinò offrono e anche lì la gente comunque era molto affezionata da determinati giochi quindi andavano a ricercare quei determinati quelle determinate parole chiave i bonus che è un'altra categoria che fa un sacco di traffico per cui ti servono tutte le varie review dei bonus perché poi ogni operatorio ogni casino ti offre determinati bonus c'è il welcome bonus ci sono i free spin ci sono i no deposit bonus ci sono i mare di bonus che si inventano ci sono i deep bonus eccetera eccetera cioè che sarebbe quello che riceve il giocatore quando inizia a giocare allora se tu sei un nuovo giocatore loro ti offrono il welcome bonus vale a dire tu sei un nuovo giocatore se tu di solito funziona a deposito cioè tu depositi 20 euro io ti raddoppio il ti raddoppio questo budget questo deposito e tu puoi giocare con 40 euro ok 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 ce ne sono diversi ce ne sono alcuni che ti danno semplicemente tu ti iscrivi e ti fanno fare 20 giri alle slot machine si chiamano i free spin ci sono alcune più sul betting ce ne sono alcune sulla roulette insomma quindi questi siti in affidazione cioè consisteva in questo il sito consisteva in quello io porto il traffico e il casino sono praticamente il butta dentro dei casino ok 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 attiravamo gente interessata ma poi chiaramente abbiamo cominciato a fare guide consigli trucchi come si gioca a questo gioco come si gioca a quell'altro gioco quindi tutta una serie di il classico funnel di acquisizione dove partiamo dalle keyword principali fino alle long tail fino alle keyword meno importanti che convertivano meno la cosa assurda di questo mondo e che non trovi in nessun altro secondo me programma di affiliazione è che i casino arrivano a darti pure 60% di revenue share vale a dire che se sulla perdita sul deposito vale a dire se un giocatore deposita 100 euro a te arrivano 60 euro a vita vale a dire che non deve più rientrare tramite te è già stato contrassegnato come utente regalato da Marco Salvo e quindi ogni deposito che lui farà noi abbiamo chiuso un sito perché l'abbiamo più mi ricordo qual è il motivo e dopo un anno ancora arrivavano un mare di soldi di revenue di utenti attivi da quel sito lì quindi pensa te incredibile sono programmi a vita long life revenue share io non sono nel settore quindi non lo conosco bene ma è una cosa fattibile qua in Italia è legale legalissima sì 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 assolutamente nel senso adesso col decreto dignità ci sono stati un po' più di problematiche relative a ciò che si può fare e a ciò che non si può fare come in tutte le cose italiane non è chiaro per nulla per cui hanno bloccato le varie pubblicità dei casino infatti se tu hai visto agli stadi per dire non ci sono più pubblicità di casino non vado mai allo stadio va bene anche in televisione quando vedevi una partita sai che c'erano tutti i vari banner pubblicitari 365 c'era quell'altro adesso l'hanno tolti però non ci sono è legale assolutamente i casino se lo fai in maniera legale chiaramente i casino con cui lavora Catena Media prima di tutto Catena Media è un'azienda quotata in borsa quindi quotata nella borsa svedese di Stoccolma quindi non ci potevamo permettere di fare cazzate e di fare cose illegali chiaramente c'erano i vari stakeholders dovevamo fare ogni mese le call a livello mondiale per dire cosa facevamo come lavoravamo qual è il revenue come guadagniamo eccetera eccetera lavoravamo solo ed esclusivamente con casino con licenza in Italia c'è l'AMS che sarebbe l'agenzia delle dogane non mi ricordo cos'è che si occupa appunto di questo e loro rilasciano una licenza a determinati operatori non puoi comprarti migliaia di licenze ne esistono adesso solo una cinquantina o sessanta insomma meno di cento e quindi sì gli operatori comprano la licenza ci sono tutta una serie di processi di step prima di ottenere la licenza e noi lavoravamo solo con quelli chiaramente Catena aveva un portfoglio enorme perché avevamo tutti i paesi scandinavi avevamo l'Italia che era il più piccolo per portfoglio tu intendi siti web portfoglio sì diciamo sì portfoglio di prodotti quindi gruppo pacchetto di prodotti di prodotti li richiamano prodotti che sono tutti di proprietà di Catena Media li abbiamo tutti acquistati da altre aziende quindi tutti i siti italiani sono diventati di Catena i siti che avevamo tutti nei paesi scandinavi sono tutti di Catena quindi proprietà di Catena cioè che poi anche una persona che gestisce un sito del genere a volerlo vendere deve essere pure preparato a sapere quali sono le cifre assolutamente assolutamente noi abbiamo sì ma ti posso dire anche che abbiamo acquistato un solo sito sessanta milioni di euro in Germania ti posso dire che abbiamo comprato un solo sito che era superscommesse.com uno dei più forti siti di betting in Italia per 15 milioni di euro solo quello una roba del genere quindi comunque parliamo di numeroni dopo una la cosa bella di Malta e di questo mondo è che fai carriere in maniera veloce se sei bravo se sei proactive se sei un attimo sveglio smart boom anche perché c'è un turnover incredibile mancano SEO per cui le aziende ti strapagano immagino tutti quelli che ti stanno sentendo però sono collegati su Catena Media ti prego ma ti dico ho avuto un escalation incredibile perché da SEO Strategies per il mercato italiano dopo sei mesi forse neanche otto mesi sono stato promosso a SEO Expert SEO Expert vale a dire decidevo la strategia di tutta la SEO di tutti i mercati che Catena gestiva quindi non solo non più non solo insomma dell'Italia ma dei paesi scandinavi avevamo acquisito il Giappone avevamo la Germania avevamo l'Inghilterra avevamo stavamo cominciando ad allargarci in America quindi io creavo guidelines quindi guide linee guida su come facevamo determinate cose creavo i protocolli quindi vale a dire come Catena Media fa la keyword search perché considera che il team eravamo una c'era una trentina di ragazzi ognuno faceva quel cazzo voleva ognuno usava tool diversi ha capito dice qua ci vuole uno che vada a dire senti le cose dobbiamo fare così questa cosa va fatta così eccetera eccetera quindi sono stato promosso a SEO Expert avevo un piccolo team di cinque persone quindi io e cinque persone sotto e dopo un annetto neanche otto mesi sono stato promosso a Head of SEO quindi il vecchio Head of SEO aveva lasciato catena per un po' non c'era stato nessun Head of SEO sono stato promosso sì un annetto fa e lì praticamente ho avuto in gestione 32 persone una trentina 18 SEO 12 content editor and writers più altri due ragazzi freelancer in Serbia quindi una roba c'è uno squadrone praticamente uno squadrone della morte e praticamente a questo punto scusami una persona che in questo momento sta pensando cazzo girano un sacco di soldi faccio un sito in affiliazione sui casi lo puoi fare assolutamente ma se non hai milioni di euro da investire non vai da nessuna parte non c'è storia cioè ti racconto com'è nata la storia del team che ho creato e poi arriviamo a questa tua domanda era sì un annetto fa eravamo in 15 all'epoca tra content e SEO arriva il CEO dell'azienda il CEO all'italiana dell'azienda e dice Danilo secondo me stai facendo un grandissimo lavoro e secondo me hai bisogno di più gente e io gli ho detto guarda te lo dico da un po' che abbiamo bisogno di più gente e lui mi fa ma di quante persone abbiamo bisogno e gli ho detto guarda a occhio e croce abbiamo bisogno di 20 nuove persone va bene comincia a prenderli da domani wow ok allora è partito il progetto me ne hanno provate 18 non so perché 20 gli sembrano troppe e tutti dovevano essere a Malta no le abbiamo chiamate da ottica racconta la storia praticamente io avevo l'idea visto che avevamo un sacco di mercati e avevamo un sacco di siti eccetera eccetera l'idea della struttura che avevamo all'interno perché il mio dipartimento è il dipartimento del prodotto quindi c'era prodotto con tutti i vari product owners content e NCO era questa trilogia che è la stessa identica struttura che viene utilizzata a Spotify quindi il nostro CEO era andato a Spotify aveva fatto tutta una conferenza eccetera e avevamo la stessa struttura super fast super veloce consegne veloci principio del agile development eccetera eccetera quindi c'era il product owner che praticamente gestiva un prodotto quindi un sito web o un portfolio di siti per dire il product owner dell'Italia gestiva questi cinque prodotti lui decideva diciamo la strategia dal punto di vista dello sviluppo quindi che tipo di future il sito doveva avere cosa dovevamo sviluppare ovviamente in accordo con il SEO e con il content bellissimo funzionava eccetera eccetera fino a che la strategia di catena è cambiata perché abbiamo deciso di allargare di espandere il singolo sito web su più mercati perché dice cazzo funziona sull'Italia perché non creiamo le varie lingue e cominciamo ad espanderci sui mercati ovviamente abbiamo cominciato abbiamo cominciato a farlo e abbiamo cominciato ad avere un mare di problemi perché? perché il SEO era magari inglese doveva fare la SEO sulla Germania il content era inglese doveva scrivere o in qualche modo avere a che fare con la Germania e non ci abbiamo capito più nulla per cui sono andato a dire senti qua abbiamo bisogno di un mare di gente in più perché se ci espandiamo su più mercati abbiamo bisogno di più gente che vada a coprire tutti i vari mercati di autoctoni di autori la mia idea era quella io voglio il tedesco voglio il finlandese voglio lo svedese voglio il giapponese eccetera eccetera ma è chiaro come la fai la SEO in Giappone se non hai il giapponese come la fai la SEO in Svezia se non hai uno svedese eh parla a dire alla cultura che c'è qua che quando fai il SEO devi saper fare il SEO ovunque no vabbè poi è chiaro Marco devi capire cioè se hai budget spieghi come funzionano le cose fai un business plan presenti tutto il piano e riesci a convincere chiaramente chi sta sopra chi tira fuori i soldi chi caccia i soldi e ottieni quello che vuoi io volevo 20 persone e mi hanno dato 18 e ho detto vabbè ma contento di 18 vado a lecciare e dico senti ho bisogno di 18 persone se le mani ai capelli dico cazzo le troviamo 18 persone e lì va la fantasia più pura abbiamo cominciato a fare video mi sono inventato a day in life at catena media quindi com'è il giorno tipico di un ragazzo di catena media quindi ho preso un ragazzo SEO abbiamo preso dei cameraman abbiamo preso tutta una serie di equip che doveva fare doveva seguirlo durante tutto il giorno che magari te lo mando lo metti in descrizione certo lo metto in descrizione assolutamente prende questo tipo si sveglia la mattina si fa i capelli fa la colazione va a catena va al caffè è un vlog tipo una giornata tipo di un ragazzo a catena da lì ci siamo pure inventati il passaporto che era praticamente una specie di passaporto finto è perché eravamo andati a Brighton a fare la SEO conference e lì davamo sti passaporti era un passaporto che ti dava la possibilità di venire a Malta a fare colloquio eccetera eccetera insomma tutta una serie di strati di cose di marketing il team HR aveva preparato questi video rispetto alla vita del SEO là dentro con quale obiettivo? di attrarre gente perché dice cazzo è fississimo la vita che fa lo vedrai nel video perché non devo andare a lavorare là scusa ok e da lì è partita questa campagna campagna su LinkedIn campagna sponsorizzata dappertutto abbiamo cominciato ad avere un mare un mare di richiesti io stavo impazzendo perché considera che facevo la SEO gestivo comunque il team di 10 15 persone che c'erano facevo ogni giorno 2-3 interview stavo veramente impazzendo alcuni erano già a Malta e quindi era facile lì insomma prenderli altri invece erano in Finlandia altri erano in Svezia l'abbiamo dovuto di convincere a venire quindi il tipo dalla Finlandia abbiamo detto guarda che sono 320 giorni di sole l'anno con 20 gradi di media l'anno in più questo e quello ho detto vengo subito insomma dopo due mesi neanche troppo tutti erano dentro quindi mi sono ritrovato ad avere i 18 SEO più i 15 che c'erano 32-33 persone nel team e da lì ho detto dobbiamo cambiare assolutamente la struttura perché così non funziona più e tutti parlavano inglese e la lingua sì tutti devono parlare il requisito minimo era chiaramente sì perché io il finlandese non lo so tu ma io non lo parlo neanche lo svedese no no inglese vabbè a parte l'italiano comunque io quando bevo tanto poi parlo il finlandese lo so ma se non ne parli uno quando bevi parli qualsiasi cosa è vera secondo me ci sarà una spiegazione comunichi con tutti ci sarà ci sarà sì due mesi e mezzo sono arrivati tutti quanti un bordello incredibile perché chiaramente abbiamo noi l'induction day che vale a dire il team HR ti spiega come funzionano le cose c'è il buddy system vale a dire un ragazzo ti accompagna no ti accompagna per mano insomma ti aiuta durante il giorno se tu hai un problema chi devo contattare per fare questa cosa dove il bagno come faccio a mangiare lui ti spiega tutto ti spiega insomma boh ce l'abbiamo fatto tipo i collegi universitari queste cose ma una roba del genere ma veramente una roba del genere e da lì praticamente sì abbiamo cambiato la struttura quindi non c'era più questa specie di struttura PO eccetera eccetera io volevo il team SEO separato volevo il team content separato perché i SEO prima avevano a che fare solo col product owner e col content non avevano modo di interagire tra SEO che secondo me la cosa avendo un team di 30 perché volevo il team SEO e soprattutto visto che avevamo tante lingue volevo fare dei team per lingua quindi non più un team per prodotto ma un team per lingua dove c'era un team lead che gestiva appunto questo mini team che era responsabile di diversi prodotti e poi ognuno all'interno del team era responsabile delle lingue di diversi prodotti che poi dico più stimolante per le persone che lavorano è più stimolante perché loro avevano a che fare con SEO scambiamano idee tra di loro insomma infatti è stato un successone a agosto uno dei siti che avevamo record di revenue un altro sito record di traffico organico insomma si lavorava molto molto meglio gestivamo gestivamo un milione di euro per la SEO considera il budget annuale era un milione di euro cosa intendi per la SEO? andiamo a scoperti per la SEO allora stipendi a parte sì sì certo allora come funziona in questa azienda funziona loro ti dicono io di SEO non ci capisco un cazzo il SEO chiaramente lui non fa SEO io non ci capisco un cazzo tu sei dove SEO tu mi dici quello che dobbiamo fare noi lo facciamo ho detto va bene senti per gestire questo sito dobbiamo fare questo questo e questo quindi ci serve dal punto di vista content abbiamo un blog dobbiamo scrivere due articoli al giorno poi c'era chi ne scriveva di più per dire il traffico anche lì cambiava la strategia SEO da paese a paese in Italia di leggere contenuti non gliene fregava quasi niente a nulla in Germania super meticolosi volevano articoloni da duemila parole si andavano a leggere la singola cazzata che se tu sbagliava mette la virgola ti contattavi ma perché non c'è la virgola qua? sì 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 quindi cambiava il metodo in cui comunque ti approcciavi che l'hai scoperto stradafacendo che l'ho scoperta stradafacendo ma ho scoperto tante cose stradafacendo ma anche perché tante difficoltà tante sfide tante challenge le ho scoperte e non stradafacendo anche perché come dicevano come mi diceva questo CEO mi ha detto tu sei gestisci i siti più grossi al mondo di affiliazione sul mondo del gambling betting eccetera eccetera non puoi copiare da nessuno chiaro nel senso che ti prendi ispirazione a voi la gente prende ispirazione da te quindi mi ha detto prova qualsiasi a catena c'era la cultura del learning from failure fai una cagata ci sta siamo i primi i più grossi non sappiamo come si fanno le cose ma l'unico modo per saperlo è buttarsi farle facciamole facciamo una cagata abbiamo sbagliato benissimo sappiamo che quella non è la strada da seguire e quindi sta cosa fantastica perché da lì veramente tu ho fatto un sacco di cagate ma nessuno è venuto a dirmi perché hai fatto sta cagata perché la risposta era perché non sapevo che sarebbe stata una cagata perché non ho idea di come si possa fare una roba del genere assolutamente chiaro tutto questo i SEO che lavoravano al progetto avevano anche carta bianca allora all'inizio sì perché all'inizio la struttura era fatta in modo che il SEO nel pod si chiamava pod questa mini unità era lui responsabile di quel prodotto io li allineavo nel senso dicevo allora la keyword research va fatta così la link building la facciamo più o meno così così chiaramente con loro non è che dicevo tu fai così non me ne frega un cavolo di quello che pensi no insieme decidevamo però io standardizzavo la qualsiasi cosa quindi in modo che tutti se volessero fare qualcosa l'avrebbero fatta allo stesso identico modo esatto anche perché per vedere cosa andava bene e cosa andava male serviva questa sorta di assolutamente assolutamente però diciamo che io li lasciavo molto indipendenti perché comunque loro erano gli esperti di quel settore di quel prodotto che lo conoscevano molto bene lo svedese sapeva esattamente come funzionava la SEO in Svezia che magari io non avevo idea quindi lui mi andava a suggerire mi andava a suggerire delle cose dicevo guarda per me può andare bene proviamo cerchiamo di ha senso e da lì capivamo se insomma era una cosa andava bene o no certo io facevo delle meeting con loro praticamente facevamo uno stand up ogni giorno quindi la mattina un quarto d'ora un round table cosa fai cosa non fai challenge blocker se hai impedimenti se non riesci a fare qualcosa eccetera eccetera e ogni due settimane più dal punto di vista umano come ti senti come stai è una figata no è bello ma lavori bene è stimolante la domenica dicevo cazzo sì domani è lunedì si va dal lavoro ma perché poi ti ripeto anche perché impari facendo le cose io ho imparato veramente più cose secondo me in un anno e mezzo due che in dieci anni certo perché abbiamo veramente provato la qualsiasi sai non è i siti erano nostri quindi non avevamo clienti non hai la paura di dire se faccio una cagata io ammazzo sì la paura ce l'hai perché comunque i siti di genero money revenue ci sono stakeholders eccetera eccetera però che fai mica ti vuoi mettere così e aspettare cioè devi essere perché altrimenti ti scavaltano altrimenti ti ammazzano chiaro e quindi andiamo sempre là il seno che lavorava che lavora là dentro si occupa di tutta la strategia che gli viene data che gli viene discusse eccetera allora prima di lasciare c'è sempre la divisione se on page se off page allora bravo forse te l'avevo già detto allora prima di creare la nuova struttura avevo creato due team diversi se on page e se off page ok perché all'inizio facevamo link building outreach campaign già non facevamo solo link building facevamo tutta una serie di azioni per acquistare link che ti racconto avevamo delle agenzie perché comunque dovevamo ordinare un mare di roba facevamo un sacco di attività eccetera eccetera non avevamo le risorse necessarie per poterlo fare certo a un certo punto ho detto di questi 18 io ne voglio prendere 4 e li voglio far fare soltanto tutta la parte off page link building tutto il resto invece fa parte di tutto l'home page vale a dire tutto ciò che c'è vabbè lo sappiamo che vuol dire il modo in cui l'ho strutturato era che il team lead che ce n'erano 2 per l'home page si occupavano della strategia c'ho la batteria scarica della strategia scusa un attimo si si vai tranquillo no problema no problema mi sa che devo mettermi però così va bene lo stesso? si per me puoi fare quello che vuoi quindi se sei più comodo va bene non ci arriva altrimenti non c'è un altro devo dire se i team lead dell'home page si occupavano di creare la strategia dei prodotti di cui erano responsabili i ragazzi nel loro team invece si occupavano dell'esecuzione della strategia quindi non lo so il team lead decideva ok dobbiamo non so andare a creare una nuova pagina perché dobbiamo andare a puntare su nuove keyword eccetera eccetera poi i vari ragazzi nel team andavano ad eseguire quindi andavano a creare la pagina fa la keyword research eccetera eccetera io chiaramente coordinavo i vari team lead e li allineavo sulla strategia globale di catena media sì invece dal punto di vista off page quello che ho cercato di fare era evitare appunto l'utilizzo delle agenzie perché le agenzie ti facevano lo scouting del website ti facevano ti contattavano ci aiutavano un sacco però chiaramente ricaricavano un sacco il prezzo dei link chiaro e poi non era più un portafoglio a cui voi potevate fare riferimento perché era sempre un'agenzia che aveva tutti i siti eravamo diverse però comunque sì non era idea insomma era dispendioso avevi bisogno comunque di persone che ti tenevano le relazioni con le agenzie perché comunque noi ti ripeto nel 2019 mi sa che abbiamo speso 700.000 euro 800.000 euro di link building quindi comunque i link ne ordini è anche vero che non pensare che i link costino come in Italia perché in Italia lo prendi con 200 euro 300 euro ma in Svezia siamo arrivati a pagare anche 5.000 euro per un link caspita quindi i prezzi al nord nel senso nei paesi scandinavi sono altissimi in Germania sono abbastanza alti un link costa tra gli 800 e 1.500 una delle domande che adesso ti faccio io vai che è stata una delle domande ti giuro che mi ha sempre stressato e che è stata anche una delle prime domande che mi hanno fatto nella nuova azienda è la seguente che tu mettiti nei panni di un CEO e gli vai a chiedere 800.000 euro di link building non hai idea di che cazzo sia la link building e tu gli spieghi perché fa questo serve a questo e lui chiaramente vuole sapere quanto quando come perché chi e non chi ma chiaramente ti dice lui pensa da imprenditore pensa al business e ti chiede senti ma io ti do 800.000 euro ma tu porti questi 800.000 euro tu che cazzo gli dici là eh gli dico ascolta ci andiamo a prendere una birretta che faremo meglio sicuro sta domanda mi ha stressato ma perché prima di tutto non li puoi dire non lo so non gli puoi dire perché altrimenti dice allora non te li do cioè che è reale non lo so che è reale non lo so ma non gli puoi dire non lo so perché ho imparato che non lo so non è la giusta risposta è un'azione che si deve fare partiamo a step vediamo mese per mese quello che produce perché comunque sai loro sono abituati a sai devo fare una campagna PPC spendo 800 so quando ritorno devo fare una c'è molto più misurabile ma i link come si fa a misurarli e allora lì abbiamo fatto tutto in base ai competitor ma se voi siete il top come si fa? numero uno numero due gli devi andare a spiegare guarda che la SERP cambia ogni giorno e la SERP cambia non perché la gente fa il link ma perché ci sono mille fattori per cui il tuo sito può salire e scendere in ranking due Google cambia gli algoritmi quattro competitor fanno su e giù cinque tu comunque fai tutta l'attività home page quindi come fai a dire che è stato quel link che ti ha portato benefici addirittura uno mi disse vabbè ce l'ho io la soluzione stoppiamo tutte le attività per tre mesi perfetto e lo lasciamo stare insomma alla fine secondo me l'unico modo per convincerli è stato il fatto che comunque hanno avuto molta fiducia in me hanno visto il lavoro che comunque ho fatto nei due anni hanno visto che comunque il team era super carico era uno dei team che lavorava meglio eccetera eccetera sono veramente fidati gli ho fatto vedere che comunque anche i competitor più piccoli investivano non sarà stato per niente semplice per te fare tutto questo considera che comunque mi ritrovavo a fare dei meeting con il CEO con i vari stake hall investitori eccetera c'è il board che là c'è tipo il consiglio di amministrazione perché comunque gli va a chiedere un milione di euro dice ma che cazzo perché devo dare un milione di euro a te e glielo devi spiegare e la domanda non ce l'avevo pronta a dirti la verità perché ma tu come l'hai quantificato i 700.000 euro di link? L'ho quantificato l'ho fatto un attimo considera che come ti dicevo i siti li avevamo acquisiti quindi avevo un po' di dati di come i precedenti si muovevano e quello che facevano avevo visto un po' i competitor un po' più piccoli come si muovevano e cosa si facevano chiaramente avevamo anche dei competitor più grandi magari in uno specifico mercato e quindi vedevo cosa loro facevano più o meno quindi ho detto guarda per essere al pari dei competitor questo è quello che ci serve avevamo fatto tutta una serie di indagini perché comunque da tre anni abbiamo collezionato un sacco di domini di prezzi quindi sapevamo il mercato come funzionava avevamo tirato su una specie di benchmark dei prezzi quindi domini di basso qualità per la Germania costa X di media qualità costa Y di alta qualità costa Z da lì in tutta una serie di cose mi servono 800.000 euro ok quindi il link builder sapeva che doveva mettere tre link di qualità al mese due di media uno schifo beh questo era quello che pensavo ovviamente l'ho semplificata alla grande è così in Italia in Germania funzionava in maniera del tutto diversa siti di merda in Germania non ne compri in Svezia siti di merda non esistono eh ma anche qua ci avvicineremo a questo noi piano piano quello che di cui mi sono accorto appunto è che come ti dicevo prima ogni mercato è diverso ogni mercato ha le poperegole alcuni non accettavano magari il fatto che dovessero linkare un sito di gambling quindi ti trovavi comunque un sacco di problematiche non di poco conto certo perché questa è un'altra cosa io so perché quando ci siamo incontrati a Malta tu me ne parlasti di questa cosa che ogni link builder aveva una carta ha una carta dove viene caricato il suo budget sì giornalmente giusto? all'inizio era così perché come ti dicevo prima ognuno faceva quello che voleva c'era sta carta Paypal ho bisogno di 3.000 euro boom caricato compravano avevamo diciamo un budget mensile quando due anni fa era molto meno il budget era circa la metà quindi sapevamo che ogni mese potevamo spendere quanto fa 40.000 euro al mese più o meno avevano chiaramente i prodotti diversa priorità i prodotti più grossi avevano più budget quelli meno grossi eccetera eccetera tu avevi che per il tuo prodotto tu potevi spendere 5.000 euro al mese di link building e tu spendevi quello che volevi a questo punto nasce un'altra domanda ma cioè questi link si trovavano? bravo i link non si trovavano facilmente che a volte forse è più semplice fare un altro sito dove mettere link infatti questa è stata un'altra soluzione che poi è una PBN considera che noi l'acquisizione di questi siti i maiali di prima avevano costruito delle PBN enormi enormi non ti sto scherzando noi avevamo in gestione 15 siti e avevamo 10.000 siti di PBN acquistati insieme al prodotto principale mamma mia questi 10.000 siti non si era mai capito nulla perché come ti dicevo il turnover è molto elevato ogni 6 mesi una persona cambia quindi non si sapeva ma stare dietro a 10.000 siti è impossibile a 10.000 siti è impossibile il team tech comunque non riusciva a gestire 10.000 siti mi sono inventato raga creiamo uno scraper creiamo un tool facciamo screpar a sto tool tutti questi 10.000 siti ci facciamo elencare quelli che sono attivi quelli che sono non attivi quelli che stanno scadendo chi punta chi ha un link a chi che tipo di link insomma ci siamo creati hanno creato un team 5 persone solo per fare sta cosa ma c'è magnifico questo hanno creato un tool che si chiamava Flamingo bellissimo e praticamente addirittura io avevo all'epoca la possibilità di poter spostare con un click di 2000 anchor text cambiare le anchor text in 2000 mandare in bulk quindi multipla richiesta e si aggiornavano tutti i vari siti di questa di questa lista enorme chiaramente quindi immagino che erano tutti fatti con lo stesso CMS a questo punto ma neanche perché come dicevo erano diverse acquisizioni no le avevano fatte bene 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 quindi diversi CMS diversi framework chiaramente il 90% era WordPress però c'erano alcuni HTML semplici un sacco di drop domain per dire c'era avevamo alessandronesta.it sì chiaro e alessandronesta.it giocava alle slot machine con slot machine c'è una porcheria che faceva schifo un sacco di nomi di domini di hotel chiaramente gli hotel avevano la stanza slot machine slot machine anchor text link la quando sono arrivato ho visto questa situazione ho detto raga ma qua è una bomba a orologeria cioè noi abbiamo una pbn di 10.000 siti cioè ma trash dove c'è rischio altissimo quindi dovevo da Edovessio informare il board e dire senti noi abbiamo qua sta pbn che funziona che però è un rischio enorme perché è come andare mi diceva sto tipo svedese è come andare a una gara di culturismo pieno di steroidi certo questa è un'altra sfida enorme per te andare là e ti risenti tutto quello che abbiamo in questo momento è semi cacca è munizia praticamente è munizia no no glielo ho dovuto dire e quindi lui mi fa va benissimo ma che facciamo io che dice che cazzo ne so che dobbiamo fare la mia settimana ci penso perché pure questa non lo so dove è scritto cosa si fa in questi casi quindi là ho detto vabbè facciamo un piano di rimozione della pbn però che va sostituita da eh capito rimuovere 10.000 link neanche ci pende lui mi ha detto ma senti ma aspetta ma qual è il rischio della pbn lui mi ha detto guarda il rischio della pbn è che i nostri siti oggi fanno 5.000 traffico organico al giorno domani non ne fanno più ah ottimo incoraggiante incoraggiante vabbè allora che facciamo mi fa la possiamo spegnere e ho detto no perché se la spegniamo i nostri siti domani non si sveglia e dobbiamo fare un piano di certo acquisizione da una parte e levare dall'altra da una parte e rimozione dall'altra quindi mi sono inventato questo piano di 5 mesi dove considera che di 10.000 molti scadevano e non ci rendevamo conto perché comunque erano difficili da gestire alcuni si erano sfasciati nel tempo eccetera vabbè questo nella normalità delle cose esiste nella normalità delle cose esiste quindi quelli venivano scartati quelli attivi abbiamo deciso di assegnare una priorità a quei siti quindi siti molto grossi che comunque ancora fanno traffico e che sono belli potenti siti medi siti di merda partiamo dai siti di merda differenziamoli per mercato cominciamo a togliere il 5% di questi siti dopo drop o addirittura avevamo fatto un redirect sui siti un po' più grossi per un po' ma li volevamo togliere anche perché volevamo risparmiare spendevamo 200.000 euro l'anno 300.000 euro certo già solo il dominio che non aveva senso ho detto prendiamo sto budget lo buttiamo dall'altra parte e piano piano siamo riusciti a gestire tutta sta cosa avevo il team poverini dell'off page che a uno a uno entravano su sti siti a controllare se il sito era buono se il sito non era buono se era a tema se non era a tema se aveva dei link eccetera eccetera poverazzi che non è graziosa come cosa perché comunque ci si sta un sacco di tempo per vederlo e lo so ma che devi fare e no no era quello era quello quindi pian piano pian piano pian piano siamo passati da 10.000 a 5.000 in due mesi non era successo nulla dall'altra parte comunque li acquisivamo nessun problema perfetto vi viene eliminata mi sa che sono rimasti 50 siti una roba del genere tornando alla tua domanda come li trovavamo siamo dovuti passare e cambiare un po' di categorie quindi non solo siti a tema ma siti un po' più generici limitrofi siti limitrofi assolutamente sì ci siamo pure inventati una cosa di cui io non conoscevo tre anni fa all'esistenza che si chiamano le outreach campaign vale a dire crea una pagina strafiga tipo un'infografica una roba del genere la facciamo diventare virale i siti ci linkano in automatico non ci credevo ne abbiamo realizzate cinque di cui una è diventata mostruosamente virale e abbiamo acquisito link dalla CNN abbiamo acquisito link da università spettacolo spettacolo quindi comunque facevamo tutta una serie di azioni non solo non andavamo a comprare il link e basta anzi cercavamo di evitare questa pratica facevamo più attività perché comunque avevo un team di cinque persone che potevano fare questa la mattina alla sera si erano inventati addirittura una cosa fighissima praticamente cosa abbiamo fatto abbiamo contattato tutti i dipartimenti di catena quindi sales dipartimento di HR dipartimento tech dipartimento design eccetera e abbiamo detto senti raga ma voi che tu utilizzate nel vostro dipartimento quindi designer noi utilizziamo photoshop utilizziamo questo utilizziamo questo questo e questo ok abbiamo contattato tutti i vari software i vari tool che questi dipartimenti usavano dicendo noi siamo catena siamo l'azienda più grande di affilazione facciamo questo questo e quello vorremmo creare una specie di articolo di blog dove raccontiamo come usiamo il tool come il tool ci aiuta nella vita quotidiana eccetera eccetera e loro sono rimasti scioccati gtmatrix ci ha fatto un articolo photoshop ci ha fatto un articolo tutta una serie di tool vari ci hanno fatto degli articoli nei loro blog di come catena media utilizzano fantastico capito che si erano inventati sta roba qua quindi facevamo questo tipo di attività ma a questo punto tu mi hai fatto venire una domanda in mente ma che tool si utilizzano in catena media per la SEO cioè tu hai portato i tool blasonati sì anche lì carta bianca su quello dal momento in cui ero lì mi hanno detto cosa ci serve cosa dobbiamo fare cosa non ci serve eccetera eccetera noi utilizzavamo SEMrush utilizzavamo chiaramente per le varie lingue eccetera eccetera utilizzavamo Ahref Ahref come come si Ahref va benissimo utilizzavamo Deepcrawl che l'abbiamo sostituito a Screaming Frog perché è arrivato un ragazzo inglese è più profondo no? è arrivato un ragazzo inglese ha detto ragazzi lui era nell'agenzia lavorava in una delle agenzie SEO più grosse in Inghilterra a Liverpool questo ragazzo l'abbiamo preso per il mercato appunto inglese dal momento in cui arrivava lui era esperto di tool ha detto serve Deepcrawl serve Deepcrawl io ho detto facciamo una prova eccetera eccetera facciamo analisi dei log insomma tutta una serie di cose che veramente ci hanno stravolto e ci hanno cambiato la vita e poi utilizzavamo un altro che era fighissimo come cavolo si chiamava non mi ricordo che praticamente ti analizzava e ti andava a dire i vari competitor se modificavano un singolo elemento della loro pagina ad esempio ah sì la roba del genere botify se o fai non mi ricordo magari te lo dico dopo che altro utilizzavamo che poi Deepcrawl io ogni tanto ci vanno perché hanno un blog curato molto ci sono delle cose interessanti anche al di là del tool proprio sì ti dirò l'ultimo periodo ho fatto molta meno SEO ma più gestione dei 30 ragazzi chiaramente perché quindi magari io i tool sapevo che avevamo quei tool ma li gestivano loro lo stavo lì a smanettare col tool sì sì questa è una domanda che tutti si fanno no la grossa agenzia utilizza dei tool spaziali eh ma loro chissà cosa utilizza invece sono i tool che comunque sono a disposizione quando sono entrato avevamo un tool spaziale vattela a cercare questo tool si chiama SEO Clarity ah me ne parlavi a Malta tu un tool spaziale ma veramente spaziale che pagavamo 200.000 euro l'anno che utilizzavamo all'1% dal momento in cui ho detto senti raga io sto tool non lo voglio ma questo fa questo ho detto sì fa questo questo e questo ma noi utilizziamo l'1% non abbiamo le risorse non abbiamo la capacità perché comunque i ragazzi erano tutti ragazzini giovani con poca esperienza che ho dovuto formare eccetera non ha senso utilizzare SEO Clarity quindi l'abbiamo bannato cancellato e eliminato alla faccia della terra no ecco i ragazzi dell'off page utilizzavano Badstream sì per la link building sì per vedere trend argomenti eccetera vedere trend argomenti sì credo facesse quello non ti so dire di preciso cosa facesse anche lì mi facevano la richiesta avevamo un budget non ce l'avevamo approvato non approvato spendevamo in media 40-50.000 euro l'anno di tool quindi neanche tantissimo anche perché poi considera che HRF avevamo due account perché comunque eravamo in tre venti a utilizzarlo quindi ci vuole la licenza ciascuno altrimenti ti bannano stesse cose certo certo senti ma io ho un sito di giochi non è che ti compresti un link 5.000 euro è che sono a posto per un po' che giochi? solitari solitari? ok ma è italiano? beh 5.000 5.000 5.000 ma in amicizia ovviamente beh è chiaro e poi invece adesso sei adesso esatto circa cos'era ottobre novembre dell'anno scorso quindi 5 mesi fa 6 mesi fa il mio manager che era il direttore del prodotto director of product che era una persona che stimavo un sacco con cui ti giuro avevo avevo instaurato un bellissimo rapporto eccetera eccetera mi guarda e mi fa e ride ho detto che cazzo ride questo io già io lo conoscerei ho detto no qua c'è qualcosa che non va e senza che lui mi dici se non gli ho detto te ne vai e mi fa sì ti giuro l'ame è cascato un po' il mondo addosso ma perché avevamo fatto tutto un progetto avevamo creato tutta una serie di cose insieme comunque due anni e mezzo avevamo lavorato veramente tanto lui ma ti giuro mi ha insegnato veramente tanto 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 e quindi il fatto che lui avesse preso questa divisione mi ha un attimo lasciato così ha detto merda insomma un po' di difficoltà anche perché non sapevamo cioè tu ti sei trovato nei panni di Flavio eccetera praticamente merda praticamente sì e quindi è stata una bella botta però dai alla fine l'ho superato insomma è rimasto lui comunque due mesi sai dal momento in cui decidi di andare la voglia lo stato di eccitamente non è uguale sei meno engaged sei meno invogliato a fare le cose perché secondo me sei già con la testa dall'altra parte quindi un po' c'è stato questo distacco diciamo graduale che mi ha un attimo fatto distaccare da lui se non che a dicembre quindi un mesetto dopo non so perché come capitano queste cose per quali strane situazioni mi contatta Hero Gaming questa questa azienda sempre di Malta che a differenza di catena è però un operatore quindi sono passato dal booking.com all'hotel vero e proprio ah cioè colui che dà l'affiliazione colui che dà l'affiliazione colui a cui mandavamo il traffico da catena ok certo mi ha contattato questa azienda dicendomi ti offriamo questo anche questa un'azienda super figa un pelo più piccola di catena non ha 400 dipendenti ne ha 150 due uffici experience center in Svezia a Malmo e centro operazionale diciamo qui a Malta qui ci sono una novantina di persone in Svezia una sessantina eccetera eccetera è dove si è quindi non abbiamo mai investito nella SEO sono partiti così quindi arrivi tu decidi quello che dobbiamo fare crei il team che era una cosa che ormai sapevo fare perché insomma dopo le spenze di catena eccetera eccetera qual è il vantaggio dell'operatore il vantaggio dell'operatore per me è che essendo molto tecnico avendo una laurea in informatica essendo appassionato di codice eccetera eccetera il casino sviluppa un mare di codice in più perché comunque ha i giochi ha tutta la gestione dei metodi di pagamento ha tutta la gestione dei clienti perché gli utenti si registrano al sito del casino cose che non avevamo a catena a catena comunque i siti erano molto semplici erano siti in wordpress con 300 pagine non è che fossero chissà che qua c'è tutta una gestione molto molto diversa e molto più complessa dal punto di vista tecnico che è stato diciamo il motivo per cui ho deciso di passare all'altra parte insomma della medaglia come ti dicevo a Malta la gente va la gente viene è una cosa normale dopo un anno o due anni andare via cambiare fare esperienze eccetera eccetera per cui è stata una bella botta dire ai 30 ragazzi che avevo preso che avevo assunto che avevo portato dentro che sarei andato loro chi piangeva chi mi abbracciava certo mi rendo conto molto emozionante e però sì domani faccio un mese di cui 27 giorni li ho passati a casa in quarantena certo non conosco nessuno li ho solo visti praticamente su incredibile tramite email chat eccetera eccetera però quindi non vi posso dire ancora ecco come è come funziona eccetera eccetera però è molto ma molto più tecnico e chiaramente la SEO non essendo il canale di acquisizione principale perché a catena il 90% 85% del traffico lo facciamo organicamente qui facciamo 10% forse 5% solo di traffico organico da brand non esiste nessuna chiave di ricerca che ci porta traffico il discorso è tutto diverso prima di tutto hai la forza del brand dal momento in cui secondo me crei una pagina la fai bene eccetera eccetera va a arrencare certo e chiaramente ci sono anche lì molti competitor però il brand cercavo qualche giorno fa noi abbiamo praticamente 2000 3000 utenti giornalieri che cercano solo il brand cioè boom casino boom boom si è proprio il nome del casino fa 2000 traffico organico al giorno quindi a questo punto tu potresti diventare un competitor di catena per quell'operatore allora considera che catena non rancherà mai per il nome di un operatore no no proprio per giochi o quello che c'è dentro per il prodotto in parte sì nel senso che sì per il nome dell'operatore no perché chiaramente chi cerca boom no no non penso quello però su tutto il resto sì su tutto il resto sì perché chi cerca il nome di una slot machine particolare inserbe catena è affiliato di questo boom casino assolutamente catena a tutti gli operatori quindi tu potresti prendere esattamente quello che facevi in catena portarlo là e dire invece di dare l'affiliazione a loro lo facciamo noi nel tempo e abbandoniamo catena assolutamente e quindi sale il fatturato perché considera che comunque gli affiliati portano mare di traffico agli operatori per cui gli operatori vogliono i siti degli affiliati certo certo noi abbiamo solo abbiamo un team di affiliazione sono una decina di persone che lavorano solo a gestire vari affiliati eccetera perché li portano 80% di traffico e arriva degli affiliati 10% da brand e 10% dalle keyword dalla SEO neanche poi c'è tutta la parte pay per click ma è poco quindi tutta la forse 60% ecco 70% dagli affiliati quindi il rapporto con gli affiliati lo vogliamo mantenere certo ci siamo anche accorti a catena che ultimamente google ha preferito gli operatori piuttosto che il sito di affiliato quindi su molte keyword che erano generiche che erano informazionali eccetera stanno cominciando a spuntare più operatori piuttosto che il sito di affiliazione perché chiaramente magari vedono l'idea che c'è un brand comunque il sito di affiliazione c'hanno 50.000 link esterni che puntano ai vari operatori non lo so come lo vede come google vede questi siti di affiliazione secondo me si fida di più dell'operatore si fida di più dell'operatore perché comunque ha un brand più conosciuto la gente cerca più il brand e lo identifica come una forma una fonte più autorevole secondo me di informazione chiaro prima domanda che mi hanno fatto a Hero Gaming quando mi hanno detto devi presentare la strategia dirci quante persone servono eccetera eccetera sappiamo che esiste la link building ma se tu spendi e noi ti diamo x quanto ci fai no pure qua pure qua no però beh avevo già la risposta pronta stavolta quindi ma il fatto che tu abbia fatto il passaggio dove un posto di cui dove tu stavi bene giusto perché c'era uno stipendio da cardiochirurgo tutto andava liscio eccetera sei passato in un'altra azienda quindi tu sei passato da cardiochirurgo a a direttore dei cardiochirurghi sti cazzi diciamo che dal punto di vista economico è decisamente meglio qui dal punto di vista dello stress è decisamente meglio adesso perché comunque non ho attualmente un team lo devo creare ed avendo comunque essendo un solo operatore non avendo 50 siti come catena avendone 3-4 non avrò un team di 30 persone avevo lì anche il team content e qui esiste un team separato per il content quindi secondo me è meno meno stress e anche quando sono entrato ti dirò la mia idea vorrei smettere di fare SEO ti dico proprio la verità vorrei smettere di fare SEO perché mi piacerebbe di più dedicarmi alla parte operazionale in genere perché comunque di nuovo avendo esperienza nel mondo del web marketing avendo esperienza nel mondo tecnico mi piacerebbe molto gestire un dipartimento del prodotto a 360 gradi che era quello che faceva il mio manager a catena e qui vedo molto di più l'opportunità di poter fare questo passaggio ok anche perché quando sono entrato ho detto senti io sì vengo per fare SEO eccetera eccetera però ho in mente di fare qualcos'altro gli ho detto conosco benissimo tutto il mondo delle affiliazioni perché non lanciamo un nostro sito di affiliazione di cui io potrei essere responsabile di accedere eccetera ho visto che loro insomma mi hanno dato abbastanza carta bianca su questo quindi il mio prossimo passaggio il mio prossimo step sarà quello chiaro chiaro Danilo cioè per niente ci hai raccontato di tutto la tua storia è bellissima bellissima veramente bellissima ti ringrazio veramente tanto per essere passato da queste parti sei stato ultra gentile ma come dico a tutti ci rivediamo alla prossima noi se mi inviti vengo volentieri assolutamente sì faccio passare un po' di tempo il tempo che tu cambia 3-2-3 aziende e crei 3-400 altri team e poi ti richiedo tutto dai fantastico ti giuro mi ha fatto un sacco di piacere rivederti grande anche a me a tutti voi spero che sia servita qualcosa che sia stata fonte di ispirazione per qualcuno assolutamente sì se avete delle domande scrivete fate quello che volete pensate di spostarvi a Malta fate dove ti possono contattare le persone Danilo ma su LinkedIn ok scusami se te l'ho chiesto dai su Facebook no su LinkedIn LinkedIn lo uso molto quindi scrivetemi là se mi volete scrivere se mi volete aggiungere tanto mi taggerai penso nel assolutamente sì assolutamente sì e ti mando il video del day in life at Catina Media sì io l'aspetto così lo posso inserire nella descrizione fantastico ciao Danilo grazie ciao ciao